Tecnico Giorno Rosso prova a placare l'entusiasmo in casa Lecce dopo la bella vittoria compistata contro la Cremonese all'ultimo minuto, ora nel Mirino, c'è il primo posto in classifica, un grandissimo risultato, come già affermato dal direttore dell'area tecnica Pantaleo Corbino. I ragazzi stanno crescendo ma questo anche proprio in virtù della gestione delle energie dei ragazzi, quindi devo dire ancora domani mattina facciamo ancora una seduta, voglio prendermi ancora qualche ora di tempo per decidere, però ci potrebbero essere qualche variazione, ecco perché è giusto nell'economia. Rispetto all'ultimo impegno ci saranno delle novità, una piccola rotazione ma nulla che vada a stravolgere quello che è il modus operandi del Lecce in questo momento che gira come una macchina perfettamente rodata. Nella mia testa c'è bisogno anche di un'alternanza anche in gara e quindi la cosa importante è che voglio gente accesa, gente che non pensi assolutamente alla classifica ma pensi alla prestazione.